Neve in quota, pioggia abbondante nei fondovalle con innalzamento dei livelli idrometrici. La perturbazione che ha interessato il bellunese e il Veneto e che ha fatto scattare l'allerta rossa idrogeologica nella parte meridionale della provincia ha prodotto effetti simili a quelli previsti. Gli apporti non hanno causato nelle ore di luce danni di rilievo. Lungo le strade, in particolare quelle in quota, si sono riscontrate alcune difficoltà legate al transito di veicoli sprovvisti di dotazioni invernali con gli automobilisti sorpresi dalla neve. Il passo Jau è rimasto chiuso per pericolo valanghe e proprio su questo tema si segnala che ARPAV ha decretato che il grado di pericolo raggiunto in tutta la parte montana è il quarto su una scala di 5. Nei fondovalle diversi comuni hanno aperto le sale COC di protezione civile per fronteggiare al meglio eventuali difficoltà sul territorio. Si guarda con funziona alle prossime ore in attesa che la perturbazione esaurisca i suoi effetti.